Ciao ragazzi, benvenuti a tutti oggi nel mio canale! Oggi sono qua con un nuovo video haul! Oggi vi faccio vedere tutte le cosine che ho comprato ma se questo video vi piace mi raccomando non dimenticate a lasciarmi un like e a iscrivervi al canale e a lasciarmi i commentini di cosa ne pensate del mio shopping e cosa avete comprato voi in questo periodo. Iniziamo subito! Allora, sono stata, come vedete, sia da Piazza Italia che da Biciublicit ci sono andata benzi due volte. Allora, iniziamo con Piazza Italia dove ho preso una cosa che ancora era in saldo e l'altra della nuova collezione. Allora, la cosina in saldo ho preso una semplicissima maglia bianca lunga e è ultra lunga, c'è quasi un vestitino ma io ho intenzione di indossarla tipo con i leggings o un pantalone comunque stretto e di sopra una giacchetta nera, quindi di fare un look piuttosto sportivo, però adoro, mi piace tanto. C'ha questa tasca sul seno della parte sinistra e una S e l'ho pagata ragazzi veramente niente, due ore e cinquanta, proprio non potevo lasciarla lì e l'ho presa appunto bianca. C'era pure verde e nero, solo che nero avevo paura proprio di creare poi l'effetto di essere tutto nero, non mi piaceva, sembrava poi una divisa tipo di pallucchiera. non mi andava, è verde e non ero tanto convinta, quindi l'unico colore che mi ha tratto era il bianco e l'ho preso appunto, è a manichetta corta, bella lunga, poi magari lo posso utilizzare anche l'anno prossimo che ne so, anche come copricostume, vedremo, poi vedremo qual è farci l'utilizzo. Poi ho preso un'altra cosa invece della collezione nuova, ovvero questo fantastico magliongino. Diciamo che Piazza Italia quest'anno ha avuto un'idea di fare per esempio questo magliongino con l'effetto maculato e così di farci anche la felpa e mi sembra anche il cardigan. Poi invece c'era con i cuoricini la stessa cosa, magliongino, felpa e cardigan. Quindi per ogni stile e fantasia gli ho fatto tre varianti e io invece mi sono presa questo fantastico maglione perché mi piace tanto questo colore a me, lo adoro e con questo appunto animaliere l'ho partato sia sul davanti che sulle maniche mentre dietro è liscio completamente. Questo qui è una taglia M, l'ho pagato 12,95, in totale avrò speso 16 euro. Quindi fantastico. Invece passiamo a Bisù Brigitte. Ho preso una collanina in realtà perché ho sempre le collane con il dorato, però quanto vado a mettere qualcosa con l'argento non ho mai veramente nulla. e quindi mi sono presa questa volta questa fantastica collana, bellissima, ultralunga, che mi piace proprio con i magliongini per indossare la collana. E' una foglia appunto argento, come posso dire, argento scuro e dentro la foglia ci sono tutti gli strassi con l'argento, quindi fa questo gioco bellissimo. E anche questa ragazzi era in super sconto perché da 5 euro l'ho pagata 2,50 euro. In pratica c'è, come posso dire, c'è questo negozio qui a Lucca che purtroppo sta chiudendo e quindi sta facendo proprio svuota il negozio, facendo scondi abbastanza buoni. E quindi ne ho approfittato. E ho preso anche altre cosine. Mi sono già proiettata io per l'inverno. E ho preso questa bellissima sciarpa, che adoro, mi piace tanto, anche perché io con il grigio non gelò, così fatta così, e quindi l'ho voluta prendere ed è stupenda. Mi piace proprio l'intreccio che ha, la trama, il tessuto, è bello spesso. Si vede che è di buona fattura. E questo qui ragazzi, considerate che costava all'inizio 25 euro, poi c'era lo sconto del del 60 e costava 9,98 euro, io l'ho presa ulteriore scontata, l'ho presa questa 4,95 euro. Cioè, 4,95 euro non la trovi neanche dei cinesi e poi si vede che ha una qualità bellissima. E' fatta veramente bella, mi è piaciuta tanto, l'ho adorata. Poi ho un maioncino grigio, già mi immagino la collanina con la foglia, poi la sciarpa, il giubbottino nero, tutta una mia idea che mi sono fatta. Però adoro veramente tanto. Quindi se siete della zona di Lucca e volete farci un salto, ve lo consiglio, perché comunque sta facendo scondi pazzeschi. E poi ho preso pure un'altra dosa. Ho preso un'altra sciarpona, le sciarpone d'inverno io le utilizzo tantissimo, soprattutto sui cappotti, sulle giacche di pelle, quando inizio a fare quel freddo, il primo freddo, le adoro, mi piacciono veramente tanto. E questa invece è con il rosso. Io con il rosso non già avevo nulla e quindi ho preso questa che ha questa fantasia un po' animaliere. Ed è rossa e nera e c'è un po' anche di borgogna. Mi piace tanto. Ed è questa è proprio la classica da mettere proprio sui cappotti o sul giubbottino di pelle. E l'ho adorata. Mi piace veramente tanto, tanto. È bella grande, bella avvolgente. E questa qui, ragazzi, costava sempre 25, costava la metà ed era 12 euro. E io l'ho pagata. Poi ulteriore sconto del 50% l'ho pagata 6 euro. Quindi, ragazzi, non potevo farmi scappare minimamente. Questo è stato l'ho, lo so, è piccolino, però, insomma, non ho comprato tanto in questo periodo. E ci tenevo comunque a farvelo vedere. Appunto, se questo video vi piace, mi raccomando, lasciatemi un like. Mi scuso se il venerdì non c'è stato nessun video, ma ho avuto un imprevisto. Quindi non sono riuscita a, come si dice, a caricare il video su YouTube. Noi ci vediamo mercoledì e venerdì alle ore 15. Vi ricordo la programmazione lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 15. Vi mando un bacio grande grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.